Che ne pensi di una bella tazza di cereali? Allora, noi facciamo così, guardate, facciamo così, poi prendiamo appunto dei fantastici cereali e li mettiamo dentro la tazza. Ma buongiorno, principessa! No, piadina, non dico a te, intendevo a Ninna. Sveglia, buongiorno, buongiorno Ninna, buongiorno. Come stai, tutto bene? Dormito bene? Sei felice? Oggi è una giornata splendente da come vedi, e quella è piadina. No, Ninna, se tu ti metti con piadina nel letto ti addormenti. Mentre oggi è un giorno speciale, devi spiegarti ad alzarti. Dai, prova a indovinare che cosa succede oggi. No, non lo so. Dai, indovina. Non lo so, non prego il giorno è. Hai tre tentativi a disposizione. È domenica. Esatto. No, è sabato oggi. Ma sei arrabbiata piadina? Dai, non sbagliare il giorno che la fai arrabbiare. Dai, dimmi che cosa succede oggi. Eh, non lo so. Dai, prova a indovinare. Come faccio a saperlo? Vabbè, allora te lo dico io. Oggi è un giorno speciale perché sarò io a decidere tutto quello che tu dovrai fare durante la nostra morning routine. Tutto quanto. Sì, sì. E io direi che stiamo perdendo già troppo tempo. Dato che devo decidere io. Dobbiamo dormire io. No, 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 no. Ho detto che devo decidere io. Quindi, mia cara Ninna, puoi portare anche piadina a spasso con te. Ma ora ti devi alzare in questo esatto momento. Su, su. Coraggio. Non c'è tempo da perdere. Nella mia morning routine nessuno deve perdere tempo. Esatto. Piadina, non lo ascoltare. Sta solo delirando. Noi rimaniamo qua e ci facciamo tante coccole. Non sto delirando. È una challenge. E se non passi nella challenge ci sarà una penitenza. Ma guarda come si è messa a piadina. Non posso lasciarla. Ho capito. Ma tanto c'è ogni giorno in questo modo. Quindi, che ti frega. Dai. Su, 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 su. E i capelli. Davvero molto carini. Ehi, ma che cosa stai facendo? Mi metto le ciapatte. E chi ti ha detto che le puoi mettere? Devo decidere io cosa ti devi mettere ai piedi. Posso mettermi le ciapatte? No. Ti dovrai mettere le mie ciapatte. E io mi metterò quelle tue rosa. Che sono molto, molto fashion. Oh, guardate quanto... Ma me le rompi! Ma non mi entrano! Vabbè, fa niente. Resterò comunque con queste ciapatte. Tu ti metterai quelle da piedone gigante. Cioè il mio. Beh dai. Poteva andare peggio, no? Ti odio. Ah, andiamo in bagno va. Bene, vieni. Avviamoci verso il bagno. Adesso è il nostro bagno, te lo ricordi vero? Sì. Aspetta però. Non hai fatto una cosa importantissima. Cosa? Scusa, mi accarezzi tutta la mattina piadina e non saluti neanche Willy appena ti svegli? Ma lui mi morde! Non fa niente, devi stare. Guarda, Willy. Mi morde! Ma dai, ma perché ti muorde sempre? Mi odia questo gatto. Vabbè, facciamo che lo hai salutato, possiamo dire. Adesso puoi andare a lavarti. È il tuo momento. Ok, mi lavo. Ok. Magari senza perdere troppo. Che cosa? Aspetta un attimo. Baglio quell'acqua è calda. Sì. Bene, mi ero dimenticato di dirti che questa mattina dovrai lavarti la faccia con l'acqua congelata. Non me la lavo. No, 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 te la devi lavare. Te la devi lavare, guarda. Se non la lavi, Willy ti morderà. Ma che belle ciabattine. Vado. Vai. Vado, eh. Vai, vai. Ce la puoi fare. Fatto. Brava. Ma che cosa stai facendo? Guarda che te la lavo io, se non la lavi tu. Ma è fredda. Fredda? Sì. Quanto? Tanto. Vedi, ora la tua faccia si è rigenerata. Che ne dici di andare a fare colazione? Sì. Realmente qualcosa di buono, vieni. Te la preparo io però. La prepari tu? No. No, la preparo io. Ok, però decido io cosa mangerai. Eh. Ho fame. Ho pensato di farti una buonissima colazione. Non ho più fame. No, no, ascoltami. Che ne pensi di una bella tazza di cereali? Perché l'hai detto così, tazza? No, no, dei cereali. Vanno bene? Sì. Accetti? Sì, sì. Perfetto. Saranno squisiti. Ah, e una cosa. Dovresti chiudere gli occhi, è una sorpresa. Brava. Non spiare. Allora, noi facciamo così. Guardate. Facciamo così. Poi, prendiamo appunto dei fantastici cereali. E li mettiamo dentro la tazza. Perfetto così. Ottimo. Direi che ci siamo. Adesso prendiamo... Eh, beccata! Ah no, ce li hai chiusi. Brava. Ho sonno. Hai sonno? Sì. Ma dai, ti ho svegliata alle nove, è tardissimo. Mettiamo il cucchiaino, mescoliamo un po'. E voilà. La colazione è servita. Signorina Ninna, tazza ai cereali super buoni. Buon appetito. Eh, sono i cereali quelli al cioccolato che ti mangi sempre? Che c'è? Io non mangerò i cereali lì dentro. Non ti piace la nuova tazza che ho comprato? No. Mi stai sfidando? Va bene. Vuol dire che non mangerai. Ok. Come ok? Dovevi dire... No, Matti, voglio mangiare. No, Matti, non voglio mangiare. C'è un po' che hai dentro questa cosa. Ma bene. Quelle sporca. Problemi tuoi. Io te l'ho servita la colazione. Io non mangerò. Allora proseguiamo la nostra morning routine. Matti. Hm? Posso mettermi sul divano, ti prego? Sono stanchissima. Aspetta, quale divano? Quello. Quel divano? Sì. Eh, beh, ti ricordi la colazione che non hai voluto fare? Era una colazione speciale gatto. Ma in realtà io non ti voglio far fare solo la colazione speciale gatto, ma sarà un'intera morning routine. Quindi ti siederai sul divano dei gatti, cioè la loro cuccia. Ma in realtà tu non lo sai, ma il divano dei gatti è il divano quello che hai indicato prima? Sì, sì, sì. No, 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 quello è il divano degli umani, cioè io e te, mentre quello è quello dei gatti, quindi guarda. La preparo per bene, prendiamola il più morbida possibile, la mettiamo qua. Ebbene, è pronta. Ah, io ho ancora le ciabattine rosa, ma ti puoi sedere. Sappi che un giorno toccherà anche a te questa tortura. Non è una tortura, Ninna, è un'amore in routine particolare. Ah, no? Oh, vedi? Ora sì che è perfetto e dovrai restare lì per 30 minuti. Ben 30 minuti. Vatti, no. Ti porterò io tutto l'occorrente, tranquilla. Ecco qui tutto l'occorrente. No! Ti porto la colazione che non hai mangiato. Non la mangerò. Tutta per te. Will invidierebbe una colazione del genere. Non mi sembra. E invece tu hai la possibilità di mangiarla. Dai, non fare brutte figure, Ninna. Coraggio. No, ma te che mi smanella panna. Niente da fare. Va bene. Vuol dire che la toglierai. Bravo, Willi. Attaccala. Significa che riporterò via questa cosa. Capito. Va bene, Ninna. Puoi uscire dalla tua cuccia. Eh, volevo dire dal tuo divano. Ninna. Sto parlando con te. Ninna. Willi, per favore, potresti svegliarla? Ninna. Ho detto che ti dovresti svegliare. Ma non puoi dormire sempre. Mamma mia, ma com'è possibile? Ma tu mi hai lasciato qua per mezz'ora. Ho capito. Mentre ora è il momento di allenarsi invece. Come in ogni morning routine. Mi stai distruggendo le orecchie. Dicevo che come in ogni morning routine è fondamentale un po' di allenamento per avere energia durante tutta la giornata. Quindi su, 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 su. No, ho detto su, alzati, coraggio. Aiutami. Oh, mamma mia. Dai, 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 che ce la fai, dai, che ce la fai. Bravissima. Hai visto che ce l'hai fatta? Bene. Allora, dai, uno, due, tre, facciamo un po' di esercizio, parti. Vai. Bravissima. No, dai, un po' di skip, un po' di braccia in alto. Non lo so, fai qualcosa. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. È possibile che non fai neanche una cosa di quello che ti chiedo? Che, che, che sfida sarebbe questa, scusa? Allora, per penitenza. Ok, no, 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 niente penitenza. No, no, ormai fai la penitenza. Farai una bella verticale. Non sono capace. Dai, provaci. Come faccio? Qua, provaci. Dai, ce la puoi fare. In fondo non è così difficile. Io non sono capace, ma perché... Verticale. Quella con le braccia al posto dei piedi. Verticale. Alza le gambe. Insieme. Non sono capace. Oh, mamma mia. Dai. Fammi vedere tu. Seriamente pensi che io non sia capace? Sì. Guarda qua. Metti le braccia così. Un pochino di energia sulle braccia. Et voilà. Ah. Aspetta, te la faccio rivedere che magari... Sì, sì. Ah, così. Facile. Perfetto. Dai, riprovaci. La faccio uguale a te. Ok. Voilà. Ma che è sta cosa? No, tu l'hai fatta così. Ma se è una falsa chiotta è incredibile. Tu l'hai fatta così. Io l'ho fatto per te. Basta. Io non posso fare la verticale perché non sono capace. Non posso fare l'esercizio fisico perché non ho fatto colazione e quindi non ho energia. Non posso fare niente. Quindi me ne vado. Tu sei una persona troppo cattiva per me. Senti, io ci ho provato in tutti i modi. Ma se te non vuoi fare niente non è colpa mia. Addio. Doveva essere una challenge divertente ma a quanto pare per Nina non lo è stata. Comunque in questo momento compariranno sullo schermo di video che sicuramente non avete visto. Quindi cliccate su quello che preferite. Ci vediamo in quel video, Instagram e TikTok in descrizione. Ciao. Ciao.